ONG a testa alta, così hanno chiamato la conferenza stampa indetta questa mattina dalle organizzazioni non governative per difendersi dalle accuse. Vincenzo Manco del forum del terzo settore. Noi oggi certo abbiamo il bisogno di affermare che non siamo disponibili ad accettare nessun attacco indiscriminato. Si tratta di capire da che parte si vuole stare del mondo per noi, insomma per le ONG e per il forum del terzo settore, nel senso che la visione del nostro mondo è una visione che costruisce solidarietà internazionale, è un mondo di frabellanza tra i popoli.